seconda edizione di ora tg bentrovati partiamo con la cronaca è da catania dove un pescatore di 34 anni si è dato fuoco nel pomeriggio di oggi davanti all'abitazione dei suoi genitori al viale moncada di librino nei pressi del cosiddetto palazzo di cemento è ricoverato in gravissime condizioni al cannizzaro dove i medici tentano di salvargli la vita il giorno prima sembra che l'uomo avesse avuto un litigio con la moglie nel primo pomeriggio di oggi è andata a casa dal padre per parlare con lui ma il genitore dormiva e ha detto ad una sorella che sarebbe ripassato più tardi invece è sceso in strada e si è cosparso di liquido infiammabile poi si è dato fuoco sul posto sono arrivati i carabinieri pigiù del fuoco con un soccorso è stato portato al cannizzaro di catania dove come dicevamo lotta ancora tra la vita e la morte andiamo dunque in cronaca proseguiamo con la cronaca parliamo di un sequestro camoroso di marijuana oggi al rione picanello oltre 140 chili di marijuana occultati in un anfratto in uno scantinato da un bidello e da un altro da un giovane che sono stati arrestati ci dice meglio nel servizio rosario rinaudo maxi sequestro di stupefacenti nel rione picanello uno dei quartieri generali dello spaccio a catania la polizia di stato ha sequestrato 146 kg di marijuana sul mercato avrebbero assicurato guadagni da capogiro il grosso della droga era nascosto in questo bunker realizzato nelle fondamenta dell'edificio gli agenti della mobile del soccorso pubblico e prevenzione hanno fatto irruzione all'interno dopo aver seguito i movimenti sospetti del 58enne davide schillace e cristofer michele cuffari di 26 anni entrambi finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio un bunker a cui si accedeva da una porta in metallo scorrevole i poliziotti hanno trovato due borsoni contenenti 125 kg di sostanza ed altre 13 confezioni con 16 kg dello stesso stupefacente all'interno di un vecchio frigo in disuso prima di scovare il vano segreto gli agenti avevano già sequestrato nel deposito gestito da schillace e altri involucri il blitz è scattato nell'ambito di un servizio mirato gli agenti della mobile notano il giovane cuffari pregiudicato transitare a bordo del proprio motorino nei presidi un istituto scolastico e dopo essersi soffermato a dialogare con schillace giunto in auto entrano all'interno del plesso dopo pochi minuti cuffari ne verrà fuori a bordo del motociclo con al seguito una busta in plastica della spesa Musa che emerge in fase di controllo conteneva due chili di marijuana schillace tenta a questo punto in vano di prendere le distanze dal giovane ma gli agenti di fronte alle bugie dell'uomo decidono di perquisire i locali i due indagati si trovano nel carcere di piazza Lanza ancora in cronaca la procura di Marsala ha chiesto l'archiviazione per il vescovo di Mazzara del Vallo Domenico Mogavero per il suo predecessore Calogero Lapiana nel procedimento penale che vede due alti prelati indagati con altri per truffe in concorso nell'ambito dei finanziamenti chiesti alla CEA e alla Regione per la realizzazione del complesso parrocchiale di San Lorenzo uno secondo procedimento era stato attivato dalla procura e vedeva il vescovo Mogavero e donno Franco Caruso in questo caso ex economo della diocesi di Mazzara del Vallo accusati di appropriazione in debita ma anche per questo procedimento è stata chiesta l'archiviazione torniamo adesso a parlare dell'incendio di ieri notte a Librino nel campo dei briganti formazione catanese di rugby che opera non solo nel rugby appunto nel popoloso quartiere catanese vediamo è partita la gara di solidarietà per il ripristino della Librineria la clubhouse distrutta da un incendio due notti fa nel popoloso quartiere catanese anche l'università di Catania come affermato dal rettore Basile contribuirà a ripristinare la biblioteca dell'associazione briganti di Librino nell'incendio sono andati perduti 10 anni di ricordi tra trofei, libri e tantissimi cemeli accumulati in questi anni oltre al materiale tecnico e medicale la cucina ed il bar presente all'interno della struttura e tante altre iniziative si moltiplicano in queste ore in favore dell'associazione che offre ai bambini del quartiere la possibilità di svolgere attività fisica e ludica oltre alla doposcuola tanti gli attestati di solidarietà la Librineria tornerà a rivivere presto? Speriamo di sì sono davvero tanti i messaggi ieri eravamo sconfortati ma sia i ragazzini che sono venuti tutti a allenarsi regolarmente sia i messaggi che sono arrivati da tutta Italia da nord a sud addirittura anche dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Illanda ci hanno reso più forti perciò se c'è qualcuno che pensava di farci del danno da questa vicenda noi usciamo sicuramente più forti di prima C'è anche un intervento direttamente da parte dell'Università di Catania per il ripristino totale della Librineria? Questa cosa, ma la stava dicendo in anteprima noi siamo felici la vogliamo rifare la Librineria perciò se vengono degli aiuti esterni che ben vengono insomma siamo felici insomma che tante persone si stanno promonendo anche enti come l'Università di Catania si sta proponendo per ripristinare questi luoghi Senta, al di là dell'attività sportiva eccetera a livello sociale che valenza ha una struttura di questo genere in un quartiere come Librino? Eh, un quartiere dove non c'è niente non c'è nessun minimo servizio nei centri sociali nessuna cosa per bambini un quartiere abbandonato un quartiere che è una città 80.000 persone non sono poche noi pensiamo che sia una valenza storica un punto di riferimento per tante famiglie per tanti bambini che gravitano intorno al campo sia lo sport gli orti sociali gli orti urbani il dopo scuola le attività ludiche che facciamo per i ragazzini sotto forma di volontariato ma oltre quello che possiamo fare noi con le nostre braccia è un quartiere devastato che man mano va ricostruito non solo dai volontari Vi siete chiesti cosa può aver scatenato un gesto di questo genere? Ma non lo so io ieri vedevo gli occhi dei bambini tutti lucidi, lacrimanti non lo so chi può fare una vigliaccheria del genere dei ragazzi che fanno solo del bene non del male A Catania 102 paia di scarpe con il marchio contraffatto sequestrate e confiscate dai gnoti dalla polizia municipale sono state devolute in beneficenza così come disposto dal tribunale 50 paia sono state consegnate all'istituto suore della Divina Providenza 52 all'oratorio San Filippo Neri sono stati dissequestrati i fondi che erano stati sequestrati all'OIOM all'istituto oncologico del Mediterraneo nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza che vide la luce a fine dello scorso anno vediamo insieme La quinta sezione penale del tribunale del riesame di Catania ha annullato nella mattinata di oggi l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che disponeva il sequestro di beni per oltre 4,2 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza alla Fondazione dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Via Grande l'OIOM era accusato di avere distratto fondi europei confinanziate dal MIUR destinata alla ricerca nel settore oncologico in operazione di speculazione finanziaria trasferendoli su conti correnti di altre società riconducibili ai medesimi indagati per ripianare situazioni di deficit aziendale il tribunale accogliendo la richiesta del collegio difensivo ha disposto oggi la trasmissione degli atti alla Procura per l'esecuzione del dissequestro e la restituzione di quanto avente diritto è fissato in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione i finanziamenti sono sempre stati versati esclusivamente su conti correnti intestati solo alla Fondazione hanno ribadito i legali della Fondazione IOM hanno preso abbastonate i rispettivi coniugi colpevoli di una relazione sentimentale clandestina i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un uomo e una donna, fratello e sorella di 54 e 50 anni di Portopalo di Capopassero con l'accusa di atti persecutori ieri sera è arrivata una chiamata alla sala operativa dei carabinieri su un'aggressione nei confronti dei cognati ma prima dell'arrivo delle forze dell'ordine i due fratelli erano già riusciti a nascondere spranghe e bastoni nella loro auto le testimonianze però dei due ex cognati hanno permesso ai militari di ricostruire la vicenda andiamo a Palermo frode nei carburanti la distribuzione dei carburanti scoperta dalle forze dell'ordine vediamo una frode fiscale per 38 milioni di euro un'evasione per il mancato versamento di accise dovute su carburanti e lubrificanti per circa 2,5 milioni è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo che ha arrestato 9 persone delle quali 5 catanesi e sequestrato diversi distributori gestiti da prestanome di soggetti considerati vicini a Cosa Nostra due degli indagati sono finiti in carcere altri 7 agli omiciliari i provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale le indagini sono state coordinate dalla Procura di Palermo ed hanno permesso alle fiamme gialle di denunciare complessivamente 43 persone ritenute facenti parte di un'associazione a delinquere dedita al trasferimento fraudolento di valori alla frode in commercio fiscale e alla commissione di altri reati in carcere sono finiti anche i catanesi Carmelo Munzone di 61 anni Filippo Tirendi ed Alessandro I Tirendi e ancora Eugenio Barbarino di Mascali in provincia di Catania 5 i distributori sequestrati a Palermo le indagini erano state avviate nel 2013 da una stazione di servizio gli investigatori avevano scoperto che il sistema di misurazione delle quantità erogate era stato manomesso così da far apparire di aver venduto un numero di litri superiore rispetto a quello effettivamente consegnato al cliente le indagini sottolineano gli investigatori hanno consentito di evidenziare l'interesse di Cosa Nostra nel settore economico pur non essendo stata formulata alcuna contestazione per reati connessi alla criminalità organizzata Nel Duomo di Modica dedicato a San Giorgio patrimonio dell'umanità dei calcinacci si sono staccati dalle parti sommitali della navata laterale di destra e di stacco si tratta del cedimento di stucco per una superficie di un metro e mezzo quadrato è stato registrato poco dopo le ore 13 quando in chiesa vi erano alcuni turisti tanta paura ma nessun ferito i calcinacci hanno sfondato una rete di protezione apposta proprio per evitare conseguenze dalle infiltrazioni d'acqua inibizione al culto della navata destra e ridefinizione di un sistema di protezione più resistente in attesa degli interventi di ripristine e consolidamento sono i provvedimenti immediati che la sopraintendenza ha messo in atto nel pomeriggio di oggi e cambiamo pagina parliamo di influenza molti siciliani ancora a letto stiamo vivendo i giorni del picco dell'influenza così come spiegano i medici che dicono pure siamo ormai quasi alla fine la situazione dovrebbe da qui in poi migliorare vediamo secondo i grafici la Sicilia è una delle regioni italiane maggiormente colpite dal virus influenzale attualmente secondo quanto riportato dal ministero della salute nella nostra regione più di 13 assistiti su 1000 sarebbero stati colpiti dall'influenza che in alcuni casi si sarebbe manifestata anche nelle sue forme più gravi sino a condurre a morte o almeno questa è l'ipotesi due persone da questo punto di vista c'è un impegno notevole da parte dei medici di medicina generale chi si è vaccinato è sicuramente più protetto e può stare più tranquillo chi non lo è ovviamente ha una situazione di maggiore rischio è chiaro che il rischio è maggiore soprattutto per i soggetti più fragili e da questo punto di vista la nostra attenzione deve essere sempre rivolta a loro I bambini principali veicolatori? L'intensità maggiore dell'influenza si verifica nelle primissime fasce di età perché l'influenza va dai bambini verso gli anziani la frequenza negli anziani è più bassa però più intensa è la problematica dell'influenza nell'anziano quindi c'è una situazione con minore frequenza della malattia ma maggiore frequenza delle complicanze e appunto cosa ci fa dire che siamo vicini al picco perché la frequenza nei bambini è in una fase discendente e quindi probabilmente questa fase discendente che ancora non si è riflessa fra gli adulti e fra gli anziani è prossima Torniamo alle notizie di stampa di queste ore si parla di decessi pochi per la verità per complicanze Senatore Gbino è un momento sicuramente importante caldo per la politica italiana sono diversi i temi che attualmente sono sul fuoco che interessano famiglie interessano le imprese iniziamo ad esempio da una proposta interessante secondo molti analisti anche attuabile la flat tax sì è una tassa che non guarda semplicemente alla riduzione delle tasse che tutti prospettano ma più che altro una semplificazione della vita dei cittadini una flat tax al 23% significa che non dobbiamo più combattere col nostro commercialista con le nostre tasse con le nostre fatture rivolto anche soprattutto anche alle imprese ma significa semplificare sappiamo che ogni volta che guadagneremo 100 23 andrà dato allo Stato e questo è un grande processo di modernità che vogliamo applicare gli analisti che ci restituiscono poi dati fondamentali per cui l'abbassamento delle tasse in maniera così significativa può ridare il respiro all'Italia alle imprese e quindi competitività si lavora per dare da lavoro ai giovani ma bisognerebbe non dimenticare gli ultracinquantenni usciti fuori dalla catena produttiva chiaro che si guarda ai giovani perché la disoccupazione giovanile è importante c'è la fuga dei cervelli il dato in Italia certamente porta a un aumento dei contratti ma sappiamo che sono contratti a termine per pochi anni e poi c'è l'incertezza del futuro in Sicilia ovviamente lo sentiamo ancora di più perché ormai è diventata la penultima regione d'Europa per questo la proposta di Forza Italia è quella di togliere sostanzialmente le tasse alleggerite il cuneo fiscale per sei anni per tutte le assunzioni dei giovani il cinquantenne di 30-40 anni fa oggi viene considerato una persona nel pieno della sua attività lavorativa molti hanno perso il posto di lavoro a causa di una crisi economica incolpevole dobbiamo guardare anche a queste fasce perché non guardare a una cassa integrazione straordinaria che invece di pensare a pagare per chi non lavora invece aiuti a reintrodursi nel mercato del lavoro parli con le imprese e consente a queste persone di rientrare nell'attività produttiva parliamo di migrazioni dobbiamo dire che l'azione del ministro degli interni Minniti rispetto all'azione di Alfano ha creato un argine però è ovvio che l'Africa e le esigenze economiche degli africani spingono e pressano perché questi migranti vengano in Europa l'idea del presidente Berlusconi di un piano Marshall lo ricordiamo applicato dopo la seconda guerra mondiale in Italia per recuperare economia fatto in Africa compiuto in Africa potrebbe portare non solo ad alleggerire la pressione dei migranti ma soprattutto a dare finalmente dignità e un futuro economico a uno straordinario continente che continua ad essere in una condizione di arretratezza si parla anche di PD e 5 stelle gli italiani si sono resi conto che il PD in Italia non è la risposta i sondaggi sono impietosi perde un punto percentuale a settimana in Sicilia l'abbiamo toccato con mano purtroppo l'appoggio del PD al governo Crocetti in questi anni ha determinato addirittura non solo un blocco del prodotto interno lordo e i dati di questa mattina e di ieri ci restituiscono la verità in Sicilia avevamo un prodotto interno lordo sotto lo zero anche se in Italia era stagnante in Sicilia era sotto lo zero i 5 stelle hanno provato a cavalcare in questi mesi in questi anni il disagio la rivendicazione la rabbia di tanti che non trovano lavoro che hanno perso il loro lavoro però non riescono a dimostrare nelle città che hanno vinto proprio con questa metodologia di sapere governare la querelle sui rifiuti che vanno primi in Emilia poi vanno in Abruzzo insomma non si sa dove collocarli e poi questo spelacchio che ormai è diventato virale infine nello Musumeci la luna di miele ovviamente del presidente Musumeci e di tutta la sua giunta continua con i siciliani ma non potrebbe essere così perché dopo lo sfacelo e il declino del PD e di crocetta qualunque presidente meno male che noi abbiamo uno straordinario presidente la mia amicizia e il lavoro che stiamo compiendo con Nello ogni settimana puntualmente e tutte le attenzioni dei fondi di investimento degli imprenditori dei presidenti di federazione si stanno manifestando non ci sono notizie dell'ultimo ora dunque ci lasciamo con il meteo ma prima dei saluti vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sul nostro sul nostro sito internet www.reitv.it sulla nostra pagina facebook e sul canale youtube di Reitv grazie per essere stati con noi prossimo appuntamento con RATG domani alle ore 14 a voi tutti buon proseguimento di serata con i nostri programmi queste le condizioni meteo della giornata di domani sabato 13 gennaio un cielo sgombro da nubri sulla maggior parte delle province siciliane i mari sono calmi le temperature 9 la minima 17 la massima catania con i nostri programmi www.reitv.e.w. 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 Grazie a tutti